Il Presidente Calzolari è un investimento per il Teatro Europa Auditorium, una sala importante che dagli anni 70 ospita non solo i congressi ma anche spettacoli teatrali, un unicum a livello internazionale perché in Europa solo Bruxelles ha una situazione simile, per il resto le sale congressi fanno i congressi e i teatri fanno i teatri. Questa volta la Fiera ci crede ancora e fa un investimento importante per una sala che è diventata molto bella. Sì, in realtà la sala è diventata più bella ed è diventata più capienta, abbiamo 1800 posti e sedere che ne fanno sicuramente uno dei palazzi e dei congressi più importanti d'Italia ma anche appunto uno dei più importanti teatri d'Italia perché in questo modo sarà possibile ospitare a Bologna anche spettacoli che hanno bisogno di piazze, di spazi rilevanti. Quindi è un connubio interessante, la sala aveva bisogno di essere rivisitata perché è una bellissima struttura ma che come sappiamo aveva qualche anno di età sulle spalle quindi è stata rinnovata tutta le sedute, sono state riviste le luci, la tappezzeria. Mi pare che sia venuto fuori davvero un intervento pregevole sia dal punto di vista della funzionalità che dell'estetica. Sono stati rimessi a posto, rifatti di fatto i camerini appunto per l'attività teatrale. In seguito nei prossimi mesi, entro l'anno dovremo completare il restauro anche delle altre sale che sono altrettanto importanti per l'attività dei congressi. Sappiamo che ogni congresso ha bisogno di più spazi da poter utilizzare contemporaneamente. Un investimento complessivo di? Questo primo investimento comporta una spesa di circa un milione e mezzo. A regime l'investimento che complessivamente riguarderà il palazzo dei congressi sarà un investimento intorno che supererà i 10 milioni perché dovremo anche valorizzare al meglio l'area contigua che è la famosa ex-gam, un'area importante, anche quella una struttura pregiata che potrà arricchire il palazzo dei congressi di uno spazio espositivo che sappiamo oggi essere una formula vincente. Chi fa congressi importanti ha bisogno di poter esporre materiali, informazioni, divulgative e quant'altro e quindi avremo anche questo ulteriore investimento. Poi ovviamente tutto questo si inserisce nell'investimento molto più importante da punto di vista economico e anche complesso che è il rifacimento di fatto di tutto il quartiere fieristico di Bologna. Grazie a tutti.